Si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 18 presso la Sala Convegni dell'Hotel Castelvetere di Caolonia Marina, un importante convegno sulla integrazione della Locride in area ZES di Gioia Tavolo. Organizzata dall'Associazione Commercianti Caolon 18, presieduta da Anna Franco, l'iniziativa è unica e fondamentale per lo sviluppo concreto e reale del territorio, un momento strategico al quale sono previsti gli interventi di molti soggetti istituzionali della Locride. Come evidenzia l'ampio programma che è stato strutturato e predisposto dall'Associazione Commercianti Caolonesi.